Il compito del cristiano è custodire il germoglio che cresce in noi, custodire lo spirito che ci porterà la pienezza e non dimenticare la radice. Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia della messa celebrata a Santa Marta. Il ponteificio ha insistito in particolare sullo stile, che dovrebbe essere proprio dei discepoli del Figlio di Dio, l'umiltà, che vuol dire anzitutto accettare le umiliazioni senza difendersi, come ha fatto il grande umiliato Gesù. Ci vuole fede e umiltà per credere che questo germoglio, questo donno così piccolo, arriverà alla pienezza dei doni dello Spirito Santo. Ci vuole umiltà per credere che il Padre, Signore del Cielo e della Terra, come dice l'Evangelio di oggi, ha nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, le ha rivelate ai piccoli. Umiltà è essere piccolo, come il germoglio, piccolo che cresce ogni giorno, piccolo che ha bisogno dello Spirito Santo per poter andare avanti alla pienezza della propria vita. e poi a guardare le